Ciao, sono Diane e ho 20 anni. Mi sono innamorata il primo giorno di college. Non sto scherzando! Avevo promesso a mia madre di studiare e non uscire con i ragazzi, ma ho uno sguardo a Brett e ruppi subito la promessa. C'è stata la scintilla e ben presto passavamo insieme ogni momento libero. Credo che se non l'avessi incontrato, forse non avrei mai scoperto lo scuro segreto che mia madre e mia zia mi hanno nascosto tutta la vita. Vedi, mia madre mi ha cresciuta da sola, non sapevo chi fosse mio padre. Lei evitava sempre di parlare dell'argomento, quindi non voleva davvero che mi trovassi nella stessa situazione. Ho deciso di tenere il segreto su Brett. Non doveva saperlo, giusto? Quando sono tornata a casa per Natale, Brett mi mancava così tanto. Ma non potevo far sapere a mia madre di lui, quindi aspettavo che dormisse prima di chiamarlo. Una notte però mi ha beccato. Doveva essere andata in bagno e all'improvviso sentito dei passi. Era in piedi proprio lì. Non sapevo quanto avesse sentito, ma super imbarazzata. Pensavo che mi avrebbe preso il telefono e mi avrebbe sgridata. Invece è tornata a letto. Era così strano. Al mattino era seduta al tavolo della cucina ridendo e disse Bene, e allora? Invitalo qui, non essere timida. Non ci potevo credere. Pensavo che si sarebbe arrabbiata, invece voleva incontrarlo. Ha suggerito di invitarlo a cena quando ci sarebbe stata anche mia zia. Mia madre e mia zia erano come grandi amiche, mi hanno cresciuta insieme ed ero contenta che anche lei vedesse Brett. Nel pomeriggio ha preso il bus, non vedeva l'ora di vedermi e mamma disse che poteva stare nella stanza degli ospiti. Non appena lei l'ha visto, ha sorriso e mi ha sussurrato che era molto bello. Poi abbiamo cenato e iniziato a chiacchierare. Mamma faceva così tante domande ed era un po' strana. Parlava senza sosta e per questo sembrava così curiosa. Chiese dove fosse cresciuto, cosa facessero i suoi, ha persino chiesto i loro nomi e cose del genere. Intanto mia zia era seduta in silenzio. Poi a un certo punto si è alzata dal tavolo uscendo in giardino. Mamma le corse dietro e Brett mi guardò preoccupato. Non sapevo cosa stesse succedendo. Dieci minuti dopo mia madre rientrò completamente cambiata. Da cordiale e amichevole ora è apparsa rigida e fredda. Ha guardato entrambi me e Brett dicendo che ero troppo giovane per avere un ragazzo a casa e ha chiesto a Brett di andarsene. Non potevo crederci! Cioè avevo vent'anni! Era così scortese! Quindi ho detto mamma perché? Per favore può restare! La stavo quasi implorando ma era così seria e ferma e sapevo che non avrebbe cambiato idea. Brett era ancora più scioccato di me. Cioè era stata mia madre ad averlo invitato all'inizio e ora lei lo stava cacciando. Prese in fretta la sua roba e chiamò un taxi. Ero così triste che quasi non lo salutai. scoppiai in lacrime ed ero così furiosa con mia madre. Dopo che Brett se ne fu andato corsi di sopra e mi chiusi nella mia stanza e mia madre arrivò lì fuori implorando di parlarmi. Diceva che c'era qualcosa che doveva dirmi. Mi rifiutavo di uscire e mi sono seduta per terra dall'altra parte della porta. Sentivo mamma piangere e capivo che era una cosa seria. Disse che non voleva che Brett rimanesse perché in realtà era il mio fratellastro. No non capivo. Chiesi se mio padre era anche il papà di Brett e poi mi sono arrabbiata. Pensavo che mamma non sapesse chi fosse mio padre. Ho aperto la porta e stavo per gridarle contro quando mi ha detto cosa succedeva. Sono stata adottata. Beh in realtà sono stata rapita da mia zia quando sono nata. È una lunga storia scioccante ma in breve i miei genitori biologici erano di ricchi ma non riuscivano a concepire. Mia madre biologica aveva un'amica di nome Ashley a cui raccontava tutto ma Ashley in segreto aveva una cotta per mio padre. Lo ha sedotto finché una notte sono stati insieme e Ashley è rimasta incinta. Papà era felice e promise che avrebbe aiutato a crescere il bimbo ma non poteva lasciare mia madre. Ma Ashley si arrabbiò. Voleva mio padre tutto per sé e che il loro bimbo fosse l'erede della sua azienda. Allo stesso tempo mia madre biologica è rimasta incinta di me e mio padre scoprendolo si è subito dimenticato di Ashley e ha cercato di dimenticare l'errore fatto quella notte. Questo fece arrabbiare Ashley ancora di più ma fingeva ancora di essere amica di mia madre. Quando mia madre stava per avermi mio padre era in un viaggio d'affari e Ashley ha pagato qualcuno per intrufolarsi in ospedale e rapirmi. Quella persona era mia zia. L'ha fatto perché aveva disperato bisogno di soldi così si è intrufolata vestita da infermiera e nel cuore della notte mi ha portato via ma non aveva abbastanza sangue freddo da buttarmi via o lasciarmi in orfanotrofio. Quindi mi ha portato da sua sorella dicendo che mi aveva trovata abbandonata in strada. Sua sorella che non aveva mai voluto sposarsi ma aveva sempre voluto essere una mamma era così felice e decise di crescermi. Ma poi pochi giorni dopo era su tutte le notizie una bimba rapita. C'era una descrizione esatta di quello che indossavo e persino una mia foto dopo la nascita. Non si poteva negare che ero quella bimba. La mia nuova mamma affrontò mia zia e scoprì la verità ma mia zia disse che non potevano riportarmi perché aveva già speso tutti i soldi che le erano stati dati per coprire i debiti e non voleva andare in prigione. Così decisero di crescermi come se fossi davvero loro. Quel segreto mi sarebbe stato ancora nascosto se non avessi portato Brett a casa. Mamma era così scioccata che avessi portato il figlio di mio padre Ashley a casa presentandolo come il mio ragazzo. Mentre lei mi raccontava tutto ciò ero lì seduta immobile. Era così inverosimile. Mi sentivo male. Mi hanno mentito tutti questi anni e in più il mio ragazzo era un fratellastro in realtà. La mia vita era un gran casino. Ti odio mamma e odio anche te ho detto a mia zia. Hai aiutato quel mostro di Ashley ad avere ciò che voleva e ora mi hai rovinato la vita e portato via la mia famiglia. Mamma cercava di abbracciarmi ma non la volevo vicino. Eravamo sedute lì a piangere. Cercava di calmarmi e di farmi rilassare. Poi sospirando ha detto. Mi dispiace, mi dispiace tanto. Per tutta la vita ho cercato di farmi perdonare. Pensavo che l'amore fosse sufficiente. E per Ashley? Beh, ho sentito che alla fine non ha avuto ciò che voleva. Cosa? Perché? Non capisco. Ma lei è riuscita a rapirmi, giusto? Mi asciugai le lacrime e la guardai. Sì tesoro, ma il suo obiettivo era diventare la moglie di tuo padre, ma ovvio non è successo. Poi continuò. Dopo che ero stata rapita, Ashley aveva dato alla luce Brett ed era così felice che i miei non avessero più la bimba. Così mio padre avrebbe lasciato mia madre e sarebbe stato con lei. Ma non è andata così. Sì, la loro cara figlia era stata portata via, ma mio padre è rimasto con mia madre e l'amava ancora di più. Mio padre non è andato insieme ad Ashley, ma a quanto pare mio padre ha sempre aiutato a crescere Brett. Di sicuro non c'è risentimento tra loro, perché ho sentito Brett parlare molto di suo padre. Ora c'era solo una cosa da fare. Dovevo trovare i miei genitori biologici e scoprire il resto della storia. meritavano di sapere che ero viva. Ma ora cosa devo fare con Brett? Dovrei rompere con lui in qualche modo.